E questa è la scheda biografica di Lucy Victoria con lei in arte semplicemente Lucy V oppure Vixen. Si tratta di una modella di glamour per le principali marche inglese. Nel 2012 vince la pagina 3 del giornale The Sun. Sempre nello stesso anno compare in Men Magazine, Nu, Zoho, Loade de Maxim e diventa anche modella per diversi siti web a sfondo erotico. Lucy Colle inizia la sua carriera di modella a soli 17 anni. Capelli rossi e grandi misure sono i suoi segni distintivi. Come vi dicevo vince a 22 anni il titolo della pagina 3 del The Suns che rappresenta una vera e propria consacrazione. Le sue misure in inglese sono 12 UK e 30 Gran Bretagna il corrispondente delle taglie forti italiane. Sempre negli spessi anni per il suo look viene spesso paragonato a Jessica Rabbit. Nel 2015 su Instagram è la più ricercata usando come hashtag-curve-mode-e-plus-sized. Ma Lucy Colle è anche apparsa in molti video musicali come Professor Green S e Song Re-MD e attention-tieve's canzone Bring Yourself to Justice. La vita privata di Lucy Colle non è esattamente fortunatissima infatti ha subito, a lungo di depressione specialmente dopo il decesso del fratello, a cui era molto affezionata. Scheda biografica di Lucy Colle. Lucy Colle. Nata il 3 marzo 1989. Nata a Warwick. Altezza 1.68 metri. Capelli rossi. Occhi verdi. Professione modella.